Le polemiche sul caso di Imane Khelif continuano. Dopo aver battuto l'italiana Angela Carini, che si è ritirata e ha rifiutato di stringerle la mano, le tensioni sono esplose. L'ungherese Luca Amori ha pubblicato un post sui social che ha scatenato reazioni forti, con il Comitato Olimpico di Algeri che ha annunciato una denuncia per le dichiarazioni offensive. Amori, futura avversaria di Khelif, alle Olimpiadi di Parigi, ha pubblicato un video su TikTok dicendo «Devo combattere contro un uomo». Grazie a tutti.